c'è un gesto innato eccolo qua per esempio questa questa è quella che ti dicevo prima questa è quella di Brescia giusto? Adalanta Adalanta Brescia esatto questa è una delle tante insomma che fanno io quella di Terni ce l'ho avuta come sfondo del desktop a Milano per anni eh anche quella è bella sì peraltro se non ricordo male correggimi se sbaglio Riccardo tu tirasti la maglia in curva in curva nord e un ragazzo per prenderla cadde nel fossato perché tu gli dicesti vammela a riprendere che se no mi ammoniscono e questo si è gettato nel fossato per prenderti la maglietta dopo tanti anni mi hanno detto che si è rotto pure il gomito sì per te credo per recuperare la maglia Riccardo che se l'è rimessa poi si è stato ammonito o no almeno c'è il sacrificio del gomito è servito o no non mi ha ammonito quindi lo ringrazio quindi è servito lo sto cercando anche altre volte ho chiesto magari un caffè io lo offro beh secondo me anche la colazione intera è grande è umido è un po' di più